Il Comune di Termoli ha fatto richiesta di 10 guardi ambientali per tutelare la città in materia di conferimento di rifiuti. Si avvicina la scadenza dell'avviso pubblico. Scadrà venerdì 1 marzo a Termoli l'avviso per l'avvio di un servizio di vigilanza ambientale volontaria aperto alle associazioni di volontariato operanti nel settore della tutela del patrimonio naturale. Servizio volto a potenziare le attività di prevenzione e controllo generale sull'ambiente, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti. L'invito è rivolto alle associazioni operanti in ambito della provincia. Sono richieste 10 guardi ambientali volontarie che svolgeranno attività di prevenzione, controllo e vigilanza con potere sanzionatorio per garantire il rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali e delle ordinanze comunali. Il coordinamento delle attività delle guardie sarà effettuato dall'ente di Palazzo Sant'Antonio tramite il comando di Polizia Municipale, che disciplinerà le modalità di attuazione del servizio e rimborso delle spese. La Convenzione avrà la stessa durata del contratto d'appalto del servizio di igiene urbana.